Buongiorno a tutti, buon arrivare all'Italia in diretta, un'Italia oggi sotto un po' sottotono, soprattutto sott'acqua. Un collegamento con Isabella Romano di Rai News 24 che si trova in questo momento in provincia di Matera. Buon pomeriggio Isabella, com'è la situazione? Ci senti Isabella? Sì, buonasera da Metaponto, quelle che vedete sono le strade del Borgo. Mamma mia! Sì, buonasera, mi sentite? Sì, sì, benissimo, grazie. Com'è la situazione ora? Ecco, queste sono le strade del Borgo di Metaponto che sono diventate veri e propri fiumi. Siamo a una quarantina di chilometri da Matera vicini, al confine tra Puglia e Basilicata. In questo momento il maltempo, come vedete, ha concesso una tregua, non piove più da circa un'ora, ma sono state davvero due giornate dure per questa regione che è nuovamente in ginocchio. Ci sono almeno quasi 200 persone sfollate che hanno dovuto lasciare le loro case per precauzione, le loro case vicine ai fiumi. Ci sono campi allagati, esercizi commerciali nuovamente invasi dal fango. E tutto questo accade a meno di due mesi dalla tremenda alluvione dello scorso 7 ottobre che è costata la vita, lo ricordiamo, a quattro persone tra Ginosa e appunto tra Metaponto, dove ci troviamo proprio in questo momento. L'allerta resta ancora alta in Basilicata. Oggi le scuole sono rimaste chiuse in una quindicina di comuni della fascia ionica lucana. Preoccupa lo stato dei fiumi che sono gonfi, sono straripati in più punti tutti i fiumi della regione, Agri, Sinni, Bradano e Basento. E in questo momento c'è molta preoccupazione per i cittadini di quest'area di Metaponto perché è quasi ufficiale la decisione che sarà aperta anche la diga sul fiume Bradano, la diga di San Giuliano, perché evidentemente ha raggiunto il livello massimo di portata e dunque quest'acqua che scenderà verso valle potrebbe creare nuovi problemi ai campi e alle case che si trovano, alle tante masserie, alle aziende agricole che si trovano vicino ai fiumi. Per il momento da Metaponto se non avete domande è tutto e ti restituisco la linea. Intanto noi torniamo a Metaponto, sempre da Isabella Romano di Rai News 24 perché vedo che ha un po' di persone intorno. Isabella? Non c'è poco però. Isabella ci senti? Non ho ancora la commentazione. Sì, proprio così sentivamo la testimonianza di uno degli sfollati e qui con me ci sono altre persone che hanno dovuto lasciare le loro case e le loro aziende. Angelo Nisi, lei ha l'azienda vicino a Serra Marina che è un'altra frazione di Metaponto in provincia di Matera dove ci troviamo in questo momento. Ci raccontava però che non è la prima volta che questo accade. No, è il terzo alluvione in poco più di due anni. La gente ormai si spaventa, le prime piogge arrivano, ci chiamano, dite andate via perché l'acqua che bradano le sonde. Quindi per noi che abbiamo un'azienda a poco più di 100 metri viviamo ormai con la paura. Io come tutta la zona dove abito io. Purtroppo qui, nonostante i cittadini hanno fatto sentire la propria rabbia soltanto che ormai le istituzioni ci hanno abbandonato perché ha messo in sicurezza il territorio da tre anni ormai nonostante le denunce nostre non sono state proprio a conto. Perché ricordiamo che la Basilicata, oltre all'ultima alluvione dello scorso 7 ottobre che ha causato quattro morti tra Ginosa e Metaponto ha vissuto anche un altro grave evento alluvionale nel 2011 un'alluvione che ha causato danni per 350 milioni di euro soltanto in Basilicata. L'ultima alluvione ha causato danni invece quella dello scorso ottobre per 56 milioni di euro sempre soltanto nella regione Basilicata. Vi faccio sentire un'altra testimonianza, quella della signora Pinuccia Sassone. Lei invece ha un esercizio commerciale, un negozio di mobili a Marconia di Pisticci che è un altro comune della provincia di Matera non distante proprio dal capoluogo di provincia. Anche lei si trova ancora una volta a fare la conta dei danni in realtà non aveva ancora fatto la conta dei danni dello scorso 7 ottobre? Infatti il mio negozio si è allagato il 7 ottobre, si è riallagato anche ieri non avevamo neanche finito i lavori di ripristino del negozio e siamo appunto da capo, quindi danni su danni su danni. Vi sentite abbandonati? Un pochino sì, sicuramente. Insomma, cioè siamo qui, ce la stiamo cavando da soli così però alla fine risposte zero. Cerchiamo risposte sotto ogni punto di vista dal punto di vista economico e della messa in sicurezza del territorio che è una cosa fondamentale e poi tutto il resto. Cioè non possiamo iniziare a lavorare, siamo veramente in ginocchio. Isabella, ma dove stanno vivendo queste persone? Gianni Fabris, che è il portavoce di un'associazione, il comitato Difendiamo le Terre Ioniche, che in questo momento queste persone sono state accolte negli otel o nei centri di accoglienza creati appositamente dai comuni, dai comuni della fascia ionica lucana che dobbiamo dire si sono attrezzati in maniera davvero efficiente perché questa volta la macchina della prevenzione ha funzionato, è stata fatta una grande opera di informazione, le scuole, come dicevamo, anche le scuole per limitare i danni sono rimaste chiuse nella giornata di sabato e anche oggi in una quindicina di comuni. Ecco, come vedete questi cittadini, questi commercianti, agricoltori, ormai fanno rete tra di loro perché in qualche modo si sentono un po' abbandonati. Gianni Fabris, lei coordina un po', fa passare le informazioni tra tutti gli agricoltori. Siete ancora in attesa di risposte? Ci avete raccontato che l'alluvione della Basilicata dello scorso 7 ottobre è passata quasi inosservata, anche agli occhi dei media. Aspettate risposte anche dallo Stato. Aspettiamo risposte sul 2011, aspettiamo risposte sul 2013, soprattutto chiediamo un quadro di trasparenza. Non esistono alluvioni di serie A, alluvioni di serie B. I sardi, i lucani, i pugliesi, i toscani hanno tutti quanti gli stessi diritti. Il primo diritto è quello alla trasparenza. Quando c'è un alluvione bisogna capire cosa fare, chi deve fare e quanto c'è a disposizione. Risarcimenti per chi ha avuto i danni è il primo diritto. Il secondo è quello alla messa in sicurezza del territorio. Noi siamo un'esperienza dal basso, l'associazione ha messo insieme molti cittadini, insieme alle istituzioni, lucane e pugliesi. Prendiamo atto di una prima risposta che ci è stata data. Noi siamo proprio qua per dare voce anche alla vostra situazione, non soltanto a quella di altre regioni. Noi abbiamo attrazzato l'informazione, voi stessi ci avete aiutato. Questo ha impedito la sciagura del 7 ottobre. Ecco, ecco, dicendo proprio che vogliamo dare voce. Prisciandaro, perché anche in Puglia la situazione è molto delicata e l'uno dei 29 sfollati di ieri. Pronto, Raffaele? Pronto, sì, mi dica. Ecco, buonasera Raffaele. Volevo capire come è la situazione in Puglia, come siete stati sfollati, dove siete adesso, che cosa vi serve, di cosa avete bisogno. Eh niente, noi preventivamente da parte dell'amministrazione comunale, sapendo la perturbazione che c'era in giro e sapendo quello che è successo a marzo 2011, siamo stati preventivamente evacuati e portati in una scuola del posto dove stiamo ancora tuttora perché c'è in atto un'apertura straordinaria della riga e si presume che possa arrivare. Però preventivamente l'amministrazione comunale ha deciso che le famiglie, chi poteva andare dai pareggi, chi non aveva, ci hanno messo qui nella scuola ad attendere che tutto si evolva al meglio. Almeno questo ha funzionato, però la prevenzione questa volta ha funzionato. E' stato dato l'allerta, si sono mossi i sindaci, si è mossa la polizia, si è mossa la protezione civile e le persone sono state poste in salvo. Già questa mi sembra una cosa straordinaria.